Ecco, io vivo qui, arredata mia madre. Non faccio il bucato, compro biancheria nuova. Sotto quel tavolo ci sono sei mesi di riviste che so che non leggerò mai, ma che non butto. Non lavo i piatti, non pulisco e non metto mai al suo posto la carta igienica. Una volta avevo una cameriera, è scappata piangendo. Le uniche cose che trovi nel mio frigo sono vodka, acqua e cose dietetiche. Per me non è importante, ma per te sì. Credi ancora che vivere insieme sia una buona idea? I've stolen all that I could round. I don't know how I will get by.